Sembrava essere una delle tante voci di mercato, che poi finiscono per spegnersi con il passare dei giorni. Al contrario il giovane talento del centrocampo, rosso-nero Sandro Tonali, è davvero vicinissimo al Newcastle. Dopo un'offerta di circa 50 milioni giunta dall'Inghilterra e rifilata dal Mila, i dirigenti britannici hanno alzato l'offerta, convincendo il giocatore con un ingaggio importante e i rosso-neri con una cifra superiore ai 70 milioni di euro. E così i rosso-neri potrebbero tentare il doppio sgarbo all'Inter, puntando su Frattesi e Lukaku. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao! 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 Ciao!